Il maltempo di questi giorni non ha fatto danni strutturali come gli amici romagnoli, ma danni di qualità e eventualmente quantità di prodotto. Nei fruttetti della Valdaso la raccolta è compromessa, circa il 30-40% delle pesche sugli alberi è da buttare. Colpa del mix di pioggia e grandine che ha rigonfiato i frutti d'acqua e li ha crepati. La polpa è cresciuta più velocemente della buccia e le pesche nel bel mezzo della raccolta sono piene di spaccature. C'è stato l'effetto craning che ha crepato una buona percentuale di frutta. Adesso questa qui va male perché non è commerciale. Queste sono tutte pesche che nelle catene di distribuzione non vanno, non sono un buono a niente. E così quest'anno le famose nettarine che hanno fatto di questa valle il giardino delle Marche scarseggeranno nei bancali dei supermercati. Parola della cooperativa Verde Valdaso che a Moresco raduna oltre 60 produttori della zona e che ogni anno consegna la grande distribuzione qualcosa come 11.000 quintali di frutta. Quest'anno i numeri però sono in calo. Oltre alle pesche il maltempo ha danneggiato anche le ciliegie e le albicocche. Per quelle precoci il 20% del raccolto è rovinato. Non avendo potuto trattare in tempo perché pioveva tutto il giorno oppure ci stavano i dilavamenti, ci sono stati problemi di monia e di corineo. E con la quantità che scarseggia, inevitabili ritocchi all'insù dei prezzi. Quest'anno con la raccolta mara la frutta Medimar che sarà più salata. Al dettaglio previsti aumenti anche del 10%.